Come state? Bentornati sul mio canale Allora, oggi, come vedete dal titolo, voglio fare un video di chiacchiere, ecco Perché è da parecchio che non ne giro uno Non so se sento tipo un odore di profumo, tipo di mia nonna Vabbè, comunque, tipo di creme, non so Ma comunque è da parecchio che non ne giro uno E di video chiacchiere, un po' video aggiornamento, update delle ultime No, di niente in particolare, con video update, aggiornamento, chiacchiere Avevo un po' sospeso questa cosa di... Non so se vedete, ma ultimamente nei video non parlo più di cose Perché preferisco così Però mi mancava, ecco, girare un video chiacchiere con voi Ho messo su Instagram il box delle domande, delle chiacchiere Ecco che, in modo tale, che poi vi rispondevo in questo video E mi sono arrivate tantissime, tantissime, tantissime Cose di cui parlare, ecco Di cui poter parlare, poter rispondere Scusate, ma oggi sono fuori fase Spero che duri questa pace, questa tranquillità Lo spero Comunque sto facendo il video con questo microfono Spero vi piaccia Questo qua piccolino E... Per alternare, per chi ad alcuni di voi piace quello Ad altri piace questo Quindi per far contenti tutti Partiamo subito Allora, lo metto qua Allora, vediamo Come ti immagini il carattere di Antonia Luce in futuro Allora, Antonia Luce, da quando è nata Anzi, da quando era in pancia Avevo già capito il suo temperamento Lei ha un temperamento molto forte Molto deciso Molto testarda È molto Ha un carattere, ecco Che vuole prevalere Ecco, devo dire E questa cosa un po' mi spaventa Devo dire, perché Dovremmo essere, devo essere brava Come mamma, come genitore A farle capire Che Ecco, cosa è giusto E cosa è sbagliato Ecco, fin da piccola Ovviamente sia io che mio marito Io a volte con lei Sono un po' tosta Perché lei Già, a certi dicono che non è vero Ma invece secondo me sì Ognuno di noi Ha il proprio temperamento Il proprio carattere Perché chiaramente Durante il corso della vita Degli anni Si forma sempre di più Si evolve Però abbiamo quel temperamento Cioè chi ha un temperamento mite Chi ha un temperamento pacifico Calmo Chi magari ha un temperamento Un po' più forte Un po' più predominante Un po' più predominante Comunque penso che questa sedia D'IKEA Dove Mi siedo ecco Per fare video Per Montare i video La butterò Perché fa un casino assoluto E mi urta il sistema Che Comunque Dicevo Alcuni hanno un temperamento Un po' più predominante Lei è una di quelli E infatti Questa cosa un po' mi spaventa Mi spaventa Quando crescerà Mi spaventa Può essere anche che mi sbaglio Però Per ora è così Mi spaventa Quando andrà a scuola Però da un lato Mi fa anche piacere Perché Nella vita serve Essere Così Cioè Non proprio Dei fessi Dei baccalà Però nemmeno Delle persone Troppo troppo sveglie Una via di mezzo E quindi da una parte Mi fa anche piacere Che Si Rimane così Ecco Questo suo temperamento E poi ci sono volte Che è molto dolce Alle volte C'ha dei modi Davvero Bruschi Dei modi Un po' Violenti Non so E' particolare Come bambina E' una maschiaccia Però Questa mamma Chiaramente Non poteva essere Una signorinella Principessina E Però Poi Chiaramente E' una bimba Quindi è molto dolce Le piace Le piacciono E' buffa Ecco Le piacciono Proprio Dei giochi Davvero Che a volte Tu dici Però Si E' buffa Poi Quale sarebbe Il lavoro Dei tuoi sogni Pensi di ricominciare A breve Portando tutti Al nido Allora Io Non ho un lavoro Dei sogni Perché Non avendo Studiato Cioè Nel senso Non avendo Continuato Gli studi Non ho Un lavoro Che so Io Sono sincera Non ho mai Sognato Di fare Chissà che Da grande Ecco Non sono una Non sono mai stata Una di quelle Che sognava Di fare Chissà che cosa Da grande Quello che Diciamo Prediligo Ecco Cioè Se dovessi Ritornare A lavorare Chiaramente Fare sempre La segretaria In uno studio Che ne so O proprio Quello che Facevo Prima Quindi Magari Lavorare Come Facevo Prima In una In un'agenzia Ecco Oppure Fare La segretaria Ecco In un ufficio Mi piacerebbe Lavorare Così Ecco Chiaramente Mi servirà Qualcosa Part time Cosa Difficilissima Da trovare Però Mi serve Un lavoro Part time Con la Bimba E Non so Se portare La bimba Al nito Sono sempre Molto Combattuta Perché Da un lato Vi dico La sincera Verità Mi farebbe Molto piacere In quanto Avrei Più spazio Più tempo Per me Anche Da dedicare A youtube Ma proprio A me stessa La mia pace La mia Al mio Benessere Mentale Quindi Sono combattuta Se portarla Al nito E Se la porterò Al nito Chiaramente Aspetto Che compia Aspetto Che faccia Un anno E Quindi A breve Voglio dire Perché tra due mesi E E Quindi Vediamo Ecco Non so La porterò Al nito Intorno All'anno Passato Un anno E qualche Mese Verso i due Anni Ecco Forse La porterò Al nito Anche Per farla Forse Diciamo Ambientare Per poi Quando andrà Alla materna Adesso Adesso Vedo Ciao Mary Volevo chiederti Come hai preso Le critiche Insensate Che ti sono state fatte Perché Se mi seguite Saprete che Ho ricevuto Diverse critiche Sia su Instagram Sia qui su YouTube Del tipo Che mi lamento Che Sono sempre giù Eccetera Eccetera E vabbè Non voglio Dare adito Ecco A queste persone Però A me più che altro Cioè Mi ha Un po' Dato Oppure Che faccio sempre Pubblicità Alle cose Che i miei video Ormai Sono solo pubblicità Sponsorizzazioni O che mi lamento Sempre Che sono sempre Abbattuta E tutto quanto A parte che Chi dice queste cose Ha poca sensibilità Perché Dopo il vissuto Che ho avuto E che ho Comunque Tutti i giorni Sfiderei chiunque Tra l'altro Ci sono temi Che ancora oggi Vengono Sottovalutati E Quando una persona È abbattuta È triste Giù Invece di dare Supporto Si dice Che palle Sei triste Sei sempre Abbattuto E Invece di capire Di sopportare Magari Chi soffre Di qualcosa Di un qualcosa Di un disturbo Ecco Dell'umore Un po' più Profondo Che è una semplice Tristezza Passeggera A me più che altro Mi dà fastidio Quando Faccio le cose Col cuore Perché io Il mio canale Nonostante io Abbia una bambina Piccola Ho sempre Cercato Di essere Presente Sul mio canale Anche nel peggiore Dei modi Però ci sono Stata Sempre Perché io Tengo tanto Il mio canale E E E Quindi Mi dà fastidio Quando mi si viene Messo in dubbio Quello che porto Il mio operato La persona Comunque Che sono Perché nonostante I miei mille difetti Perché io Ammetto di avere Un sacco di difetti Ma come tutti quanti Noi Perché nessuno È perfetto Tutti ci lamentiamo Non esiste Credo Persona Che non si lamenti E Io sono me stessa Chiaramente Voi vedete Solo una minima parte Ecco Di me Della mia vita Qui su youtube Però Cerco di essere Cerco di metterci Il cuore Quindi quando mi viene Messo Quando qualcuno Mette in dubbio C'ho A me Mi Mi dispiace Mi ha dato fastidio Che alle tante critiche Ai tanti Le cose brutte Ecco Mi danno fastidio I pollici in su Delle altre persone Ai commenti Ecco Invece di Mi piace più che uno Cioè Come dire Se uno mi deve criticare È meglio che mi criticano Che mette like Agli altri commenti Che fanno gli altri Perché questo è veramente Da pigliacchi Secondo me È rimasta male Fino a un certo punto Perché non è che mi Cioè Me le faccio scivolare A toste cose Ecco Però Comunque Mi sono un po' Freddata Cioè Infatti Penso avete visto Parlo meno Della maternità Parlo meno Di un sacco Di pensieri Che faccio Perché a volte Penso che Le persone Ecco Non meritano Quello che Penso Quello che voglio dire Perché non tutti Capirebbero E quindi Preferisco Tenerelo Per me E E niente Però mi sono un po' Raffreddata Ecco Questo sì Rispetto a prima Poi Mary come stai Fisicamente Mentalmente Allora Fisicamente Abbastanza bene Sono solo un po' Stanca Mentalmente Anche vorrei Diciamo Avere un po' Più di tempo Libero E Un po' Più di Tranquillità Ecco Poi Come ti organizzi La giornata Con la bimba Io non riesco A fare niente Allora Anche qua Ragazzi Cioè Con i bambini E così Purtroppo Non si riesce A fare tutto Io ho sempre Tante cose Da fare In casa Spesa Casa YouTube Quell'attimo Di tempo Per me stessa Dove faccio Workout Cioè Davvero È un casino E Mi organizzo Io sono molto Cioè Io di mio Mi piace Organizzarmi E quindi Mi organizzo Cioè Io Che ne so La mattina Si sveglia Fa colazione Nell'ora di riposo Faccio Workout Quei 40 minuti Ecco Quella Oretta Faccio Workout Oppure Un altro giorno Mi organizzo Quando non devo fare Workout Allora Pulisco Casa Rassetto Ecco Casa Poi Se il pomeriggio Si fa L'altro pisolino Faccio Altro Ecco Io Approfitto Dei suoi pisolini Per fare Qualcosa Altrimenti Non si fa Niente Quando sveglia Faccio Comunque Le cose Cioè La intrattengo Magari Una volta Sta sul seggiorone Una volta La metto a giocare Ecco Con i giochini Per sul tappeto Una volta Nella culla E io Nel frattempo Pulisco Sistema Se no Non è che posso Stare così Con lei E non fare niente Cioè Lei deve Abituarsi Che io Ci sto Sto vicino A lei Non la lascio Però A me non piace Tanto Stare in simbiosi Lo so Che è brutto Da dire Cioè Da sentire Magari Uno dice Ma Perché Cioè Però io non sono Una di quelle mamme Così Cioè Mi piace Averla sotto controllo Infatti Quelle poche volte Che la lascio A mia mamma Mi sento un po' In colpa Perché dico Mannaggia Perché l'avrei potuta Tenere io Chissà che sta facendo Di qua e di là Cioè Mi faccio tutti questi Problemi Che si fanno Tutti i genitori A mio marito Compreso Però D'altra parte Non sono Quando sto in casa Con lei Non sono super Appiccicata Perché Lei Ecco Voglio che Non dipenda Da me In tutto E Quindi faccio Le cose Con lei Lei a volte Mi vede Mentre faccio Le cose Se mi allontano Eccetera Vede che poi Io ritorno Vicino a lei Eccetera Eccetera Ecco Però in un modo O nell'altro Faccio così Per fare qualcosa Di concreto Ecco Aspetto Che lei dorma Se no Non riesco A fare niente Diciamo L'unica palla È uscire Ecco Con lei Nel senso Se devi fare la spesa Con lei È diventato difficile Servizi Ecco In giro Commissioni varie Con Un bambino Appresso È Difficilissimo Anche per esempio Uscire la sera A mangiare fuori Un incubo Perché loro Iniziano a piangere Vogliono dormire Vogliono mangiare Cambia Tutto Poi Dove vorresti andare Nel tuo prossimo viaggio Allora Nel mio prossimo viaggio Non vi so dire Qualsiasi posto Basta che viaggia Ciao Mary Con la bambina Riuscite a ritagliarvi Momenti Solo per te Tuo marito È difficile Ragazzi Come vi dicevo Prima Molto difficile Anche perché Mio marito Lavorando Stiamo insieme Soltanto Nello spacco E poi A ora di pranzo E poi la sera E quindi Abbiamo davvero Poco poco tempo Infatti Questa cosa Io all'inizio L'ho accusata Tantissimo Cioè veramente È stato Dura Per me Per me Tantissimo Perché Tanti anni Da soli E poi All'improvviso Questo cambiamento È davvero Difficile Però uno I momenti Se li deve rubare Ogni tanto Cioè Quei piccoli Momenti Ecco Che ci sono Ormai Sono pochi Però uno Se ne deve Se ne deve Approfittare Di Di questi Momenti E E viverseli Ma Non è come prima Il tempo Che si ha Un tuo Grande desiderio Non ce l'ho Ragazzi Quello che desidero Quello che desideravo Era Riuscire Ecco Ad andare A vivere Nella casa Di mio padre Ma non ci sono Riuscita E quindi Non ho più Desideri Ecco E Spero solo Di Riuscire Ecco A fare più Viaggi possibili Magari Di trovare Una casa Un po' Più Comoda Questo si Ciao Mary La mia domanda E quali sono I tuoi progetti Lavorativi In un prossimo Futuro E se volete Altri figli Allora Progetti Lavorativi Come vi dicevo Non ne ho Spero Di trovare Un lavoro Part time E Che rispetta I orari Con la bimba Con mio marito Eccetera Altri figli Ragazzi No 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 Cioè Da qua Ai prossimi Dieci anni Penso di no Puoi mai dire mai Può essere pure che Un giorno Scimonisco E decido di farne Un altro Però Adesso proprio No Dove hai preso Mary Dove hai preso Il vestito Per il battissimo Della bimba Io ho comprato Un taglier E l'ho preso Da Imperial Poi Qual è il segreto Per superare Un momento Difficile Non ci sono segreti Ragazzi Io non l'ho superato Il momento mio Difficile Si va avanti E si pigliano Le giornate Come vengono Mary Come va Con la tua bimba Ti senti più tranquilla Allora Io diciamo Che adesso Ho acquisito Dimestichezza E quindi Diciamo Che adesso Ecco Mi sono Sono diventata Pratica Questo si Niente domande Ci sono sempre Alte e Bassi Con i bambini Poi Niente domande Volevo solo Chiederti Come stai Dato che Vedo che Sei molto Stanca E Si Effettivamente Sono molto Stanca E Poi Avete viaggi In programma Si Prima di Natale Sicuramente Poi Avevate altri nomi In mente Oltre ad Antonia E quale nome Avresti scelto Se fosse stato Maschio Allora Oltre ad Antonia No Cioè Ero sicura Che le mettevo Antonia Antonia Luce Per la verità Se fosse stato Maschio Si sarebbe chiamato Antonino Come mio padre Che non è Uguale ad Antonia Sono due nomi Differenti Poi Mary Iscriverai La bimba All'asilo Hai mai pensato Di farle frequentare Un nido All'asilo Cioè La materna Sicuramente L'asilo nido Sono combattuto Ragazzi Progetti e sogni Per il futuro Ragazzi Non ne ho Non mi piace Pensare al futuro Mi piace Vivere L'oggi Come vivi Come vivi la transizione Dell'estate All'autunno Bene Ma è come quest'anno Non vedo l'ora Che finisca l'estate E venga un po' di fresco Youtube Mi piace sapere Il tuo menù Detox Ragazzi Io non condividerò Mi dispiace Non farò Good day E non condividerò La mia alimentazione Perché Non mi piace Condividere questo E anche a te Iniziano Già a chiedere Quando farai Un fratellino La sorellina Sì E anche io L'odio Questa cosa Però Ormai Tutti quanti Lo chiedono Come mai Avete dato Questo nome A tua figlia A vostra figlia Perché Antonia È il nome Di mia suocera E non c'è più E quindi Perciò Ciao Mary Mi sembra di vederti meglio Ultimamente Ragazzi Quello che vedete Non è sempre Quello che Non è sempre La realtà Quindi grazie Però Non tutto quello Che vedete È verità Cioè È realtà Ecco E niente ragazzi Questo è quanto Spero che il video Vi sia Piaciuto Se avete altre domande Scrivetele E vi risponderò In un prossimo video Chiacchiere Tra amiche E Tra amici Chiaramente Noi ci vediamo Alla prossima Un passo E un buon relax Spero di aver risposto A tutto Vi Mando un grosso Grosso passo Alla prossima Alla prossima